Secondo le stime di Coldiretti, le famiglie lombarde spenderanno complessivamente 1,8 miliardi di euro in più nel 2022 solo per la tavola rispetto all'anno precedente a parità di acquisti. Questo quanto emerge analizzando i dati dell'inflazione. Nel mese di agosto l'inflazione generale ha raggiunto infatti il record dal 1985 con un valore del più 8,4%, mentre per i beni alimentari sale addirittura del 10,2% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo accettare quello che arriva. Purtroppo c'è un grande aumento di tutto, quindi grande inflazione. Ci interessa capire come affrontare questa cosa, perché che c'è lo sappiamo sulla nostra pelle. Poi magari è un po' più difficile capire come risolverla se si può. Le pensioni rimangono quelle che sono, gli aumenti sono i minimi, perciò si figuri lei si deve andare avanti con quello che si ha, insomma sperando che almeno la pensione ce la diano ancora. Il record dell'aumento spetta i prezzi dell'olio di semi con un più 63% per le difficoltà di importazione dall'Ucraina. Il burro fa segnare un più 34% seguito dalla margarina con un più 24% e poi farina, riso e pasta più 22%. Gli aumenti si registrano anche per le verdure fresche e per la frutta, anche per effetto delle speculazioni. E mentre l'aumento colpisce la filiera agroalimentare, le attività sono costrette ad alzare a loro volta i prezzi, visto che a vedere i prezzi gonfiati è stato proprio tutto, dal tetrapack con un incremento del 15%, dal 35% delle etichette, 45% per il cartone, 60% per i costi dei barattoli di banda stagnata, fino ad arrivare al 70% per la plastica. La maggior parte dei fornitori hanno aumentato tutti i prezzi, quindi anche noi di conseguenza abbiamo aumentato tutto. Ho dovuto aumentare il caffè, tutto, tutto è aumentato completamente, non si sa più come fare, e infatti tanti sono costretti a chiudere. All'aumento di materie prime e prodotti quotidiani si aggiunge la stangata delle bollette. Secondo Confartigianato sarebbero 9 milioni gli italiani a rischio povertà energetica, a causa del caro bollette di gas e luce e la polemica monta, anche quando si parla di stipendi.